Benvenuti a Torino, nel quartiere di Parella. Qui vi presentiamo una fantastica opportunità di investimento, due monolocali a reddito, interamente ristrutturati, situati in una tranquilla palazzina degli anni Sessanta. Diamo un'occhiata a questo immobile. Questi appartamenti, disposti su due livelli collegati da una scala interna, offrono una superficie totale di 65 metri quadrati. Non richiedono alcuna manutenzione, sono pronti per soddisfare qualsiasi esigenza abitativa. Ogni monolocale è autonomo, con ingresso indipendente, angolo cottura, bagno e camera da letto. Ideale per chi cerca uno spazio per vivere o lavorare. Può facilmente diventare un confortevole studio personale o ufficio. L'immobile è perfettamente posizionato, lontano dal trambusto delle grandi città ma con tutte le comodità urbane. È a pochi passi da Corso Telesio e Corso Francia, con rapido accesso al centro di Torino grazie alla vicinanza con la metro e le linee di bus. E per gli amanti della natura, il parco della Pellerina è a soli 500 metri di distanza, perfetto per lunghe passeggiate o itinerari in bicicletta. All'interno, vi accoglierà una porta che conduce ad un ampio monolocale arredato con gusto e funzionalità. Il valore aggiunto? Nessuna barriera architettonica all'interno dell'immobile. Attualmente, questi due monolocali sono locati a studenti, generando un canone mensile totale di circa 800 euro. Ma possono essere acquistati anche liberi, a seconda delle vostre necessità. Non lasciatevi sfuggire questa grande opportunità nel cuore di Torino. Contattateci per ulteriori dettagli. Chiama il 335.66.4.66.22.